Ho capito, ho capito. Allora, ti spiego brevemente le regole del gioco. Ti avrà già accennato qualcosa, probabilmente Valeria. Allora, saranno dieci prove veloci, divise in tre manche, più il domandone finale. Sabatone? Era mascarpone. Ah, mascarpone, no. Tottattia. 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 Non è focaccia, non è slovacchia, non è borraccia. Tottattia. No, proprio non mi viene. E allora, diamo l'aiuto che vorrà, quindi 50 punti con la risposta esatta, è fauna. Fauna? Mh, è un animale, è un animale. Tottattia. E la risposta è esatta, la cornecchia. Con l'aiuto, dai, con l'aiuto. Con l'aiuto, ma c'è gente che con l'aiuto non indovina. Titta tattattieta. Titta tattattieta. Titta tattieta. Sotto questo sole, 100 punti e voli a 250 punti. Vabbè, Lilo e Stitch l'hanno scritto, mi sa. Attenzione, sì, l'hanno scritto, l'hanno scritto, ma tu l'hai detto prima di Fabio, l'hai detto prima di Fabio. Non lo so. Perché, sì, no, dici di no? Non lo so. No, io ti dico di sì, perché c'era scritto solo Lilo e Stitch di Andrea Reca, ma l'ha scritto sbagliato. Ovviamente, tra un po' toccherà anche a te. Mi c'è amico di Fanny, dimmi che ti si vede, ok. Ciao, ciao Francesco, ciao Francesco, è ben arrivato, ben arrivato. A un certo punto temevo, vedendo la rotellina girare, che non ti avrei visto invece, e invece funziona correttamente. Allora, tu da chi è? Io non mi ricordo più da chi sei stato nominato. Da Fanny Eve, la mia amica Francesca. E forte, come tutte le tue amiche, tra l'altro, se hai partito a fuoco, se hai partito a fuoco. Un condottino di Bettoniera? No, c'è anche un aiuto, di fianco a te. Tetto Tieta. Sottiletta, no? E allora andiamo con l'aiuto. L'aiuto è mare. Fondo schiena, no? Sto giocando anche Giovanni. Tetto Tieta. Mare. Petroliera. E la risposta è esatta, Petroliera, quindi 50 punti, perché ho dato l'aiuto. Tetti. Tè Autetti. Tè Autetti. Tè Autetti. Gae Aulenti. E la risposta è esatta per un pello davanti a Metteron. Gae Aulenti, l'architetta. Tè Autetti. Tè Autetti. Voto dei Tutti. Fatevi seriamente. Anche Giovanni Albenese questa sera le stiamo indovinando tutte, ma arriva sempre dopo, nella mia cronologia, e dice Simone Bombelli. Tipo... Assolutamente va a cantare. Allora, ha finito la puntata. 150 punti, fatto. Tanto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Le notizie siamo nel 2025, era il 2023 prima, purtroppo non posso farlo. Allora, ha finito la puntata.